Buonasera, cominciamo dalla politica in casa del PD Fanese. Attacco a Samuele Mascarin da parte di Stefano Marcheggiani. Basta attacchi al partito, ha detto. Sentiamo. Non gli sono piaciute le dichiarazioni rilasciate da Samuele Mascarin ad alcune testate locali ed oggi ha replicato. Stefano Marcheggiani, segretario del PD e candidato alle prossime primarie del centro-sinistra, non ci sta a sentirsi dire dal candidato di Sinistra Unita che il centro-sinistra stesso ha bisogno di una svolta. Io direi che il centro-sinistra Fano c'è dopo il congresso nostro del 13 luglio perché la mia linea politica era quella di fare una coalizione di centro-sinistra, di crederci. Ci siamo riusciti con la collaborazione delle altre forze, indubbiamente, ma senza il PD che ha dato questa sferzata di novità, un panorama che si vedeva già abbastanza asfittico, questo esperimento non sarebbe tornato a essere. Quindi noi crediamo alla coalizione e crediamo anche che le primarie daranno il modo alle elettrici e agli elettori di Fano di dire la loro. Quindi bisogna stare un po' sereni senza rimarcare continuamente che questo PD è cosa vecchia e superata. Noi siamo anzi convinti di essere l'elemento di equilibrio, diversificata per opzioni politiche e per tradizioni. L'abbiamo dimostrato lavorando intensamente il programma, programma che portiamo in giro nella città. Quindi invitiamo tutti gli alleati a tornare a un livello un po' più alto e meno a fare interessi di bottega. Per quanto riguarda invece le questioni cittadine, state guardando da vicino quanto sta accadendo a livello di servizi educativi e di scuole? Sì, per noi la scuola è centrale nel programma di governo perché il futuro dei cittadini si forma a scuola fin dall'infanzia. Anche qui dobbiamo registrare un grande ritardo nel lavoro di questa amministrazione e il dissenso anche di queste ore di comitati di cittadini nel piano di organizzazione scolastica che per carità va razionalizzata questa offerta. Però ci si stupisce perché si arriva con cose preconfezionate che non hanno avuto nessun filtro né in consiglio comunale né con gli insegnanti, dirigenti e cittadini. È un modo che non condividiamo e noi pensiamo di metterne in campo un altro. Poi le butade anche qui di campagna elettorale, la scuola media di Bellocchi al CODMA. Ora sto CODMA sta diventando la madre di tutte le opzioni perché c'è un progetto che sta viaggiando in provincia, voluto proprio dall'amministrazione in carica, di polo logistico. Quindi se è il polo logistico non può essere una scuola media, si decida, il sindaco deve decidere. E poi noi siamo convinti che c'è uno spazio per la scuola media di Bellocchi, previsto dal piano lavoratore vicino alla scuola elementare, che una scuola media non è un edificio come gli altri e va concepito ad hoc. Ci rammarica il fatto che non esista nessun progetto cantierabile nel comune di Fano, ha detto anche dello stesso assessore, in particolare la scuola Coccurano-Rosciano, ferma il progetto preliminare di cui non sappiamo bene il destino. Tra le altre cose, questa mattina opere compensative della 14, dopo questa insomma situazione in cui sembra che il casello non arrivi, vi chiedete di comunque far arrivare a Fano i soldi che erano stati pattuiti con società autostrada. Rispettiamo i voleri della sua intendenza, ovviamente vogliamo capire appunto come si è chiusa questa vicenda, poi se questi 20 milioni di euro che mancano all'appello non devono essere spesi per quell'opera, vengono spesi per altre cose di cui fanno estremamente bisogno e si discuta su che cosa investire.